ok ragazzi si può continuare con telesoft berseria qui vediamo un po allora si andiamo da questa parte allora qui bisogna parlare un po è 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 tanto ci costa poco quindi possiamo tranquillamente migliorare mh tutto quello che c'è da migliorare insomma allora accessori non si può migliorare perché giustamente però qui e e ragazzi è bella questa cosa che si può migliorare e si mi piace mi piace devo dire che mi piace lo scomponi vabbè usciamo dal negozio andiamo avanti ragazzi e vediamo un po' mmm cosa ci sarà da fare adesso mmm da che parte andiamo ecco di qua eh Allora si può continuare Vediamo un po' A questo punto ragazzi Credo che bisogna andare Non so se qui o sopra Vediamo un attimo Andiamo un attimo qui e poi No, bisogna andare su ragazzi Un attimo solo di pazienza E ci siamo insomma Ecco Ok, avrei voluto Evitare lo scontro Non è stato possibile Abbassiamo un po' il volume qui Combattiamo Tanto la battaglia è facile ragazzi Non è affatto complessa Quindi Possiamo farla senza problemi Speriamo di prendere qualche punto esperienza Ecco Non pochi pochi Ma ecco Neanche tantissimi ce ne toccano Ecco allora Ora possiamo proseguire Qui tanto A breve Ci sarà il punto Dove bisogna andare Insomma ecco Per continuare la nostra Fantastica missione Allora Sì Allora Allora C'è il nostro corso di Mardello, e questo è un'unica, ma non è un'unica. Non è un'unica, ma non si può essere un'unica. Ma che è un'unica, ma che è un'unica? Il nostro corso è una donna, ma che è una donna, ma che è una donna. Non è un'unica, ma che è un'unica, ma che è una donna. Cosa diceva? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' fatto veramente, ma veramente, ma veramente bene, e beh. Vediamo un po' di combattere qui, vediamo un po' di... Farci un attimino qualche punto esperienza come si deve qui, perché... Per il momento di punti esperienza ne prendiamo pochi, ne prendiamo veramente pochi, quindi per salir di livello qui è un po' complesso, possiamo dire... Non danno tutti quei punti che dovrebbero, vabbè. Però, detto questo, insomma, dovete stare buoni però, dovete stare abbastanza buoni qui, eh. Ok, ok, ok. Ecco, questi qui, ragazzi, voi sapete che... devo raccoglierli per forza, eh. Sì, ok, ora qui da dove si scende? Eh, ragazzi, ora qui... Controlla, controlliamo, va bene. Ah, ecco, si scende da qui, ragazzi, beh, giustamente il punto doveva esserci, quindi... Sì, ok. ok ok tranquilli c'è un imprevisto lì e quindi ora usa l'entrata di servizio sotto la scogliera si questo l'ho ben capito che purtroppo è cambiata la nostra destinazione però a questo punto ragazzi credo che bisogna andare da quella parte lì vediamo un po' qui di affrontare al meglio questa battaglia ragazzi perché qui è insomma io voglio affrontarla al meglio però insomma ci sono riuscito direi di sì ragazzi direi di sì allora qui purtroppo cambia tutto cambiano i nostri piani ma credo che spero che bisogna andare da questa parte ragazzi io voglio ora ben sperare che sia qui voglio veramente ben sperare ci si prova poi vediamo un po' il da farsi un attimo solo che mi fermo un po' a raccogliere questi oggetti qui allora allora da qui sono arrivato quindi si dai scendiamo qui e vediamo se giustamente la nostra strada sarà questa ma a questo punto credo proprio e proprio di sì è infatti è infatti possiamo tranquillamente proseguire eccoci qui ok facciamo questo scontro dai facciamolo ok ora c'è da ridere qui eh ora c'è un po' da ridere c'è veramente un po' da ridere ora credo che affronteremo la battaglia in maniera molto semplice alla fine siamo quattro contro due e infatti e infatti e infatti guardaremo la battaglia in maniera Ok, sì Ok, ok, no, possiamo proseguire Ragazzi, possiamo proseguire Vediamo un po' se c'è qualcosa Qui intorno Ecco, c'è un forziere Io sinceramente vorrei Prenderlo per vedere Ah, ok, volete combattere Qui, vogliono combattere Vogliono combattere Vabbè, non c'è problema Io voglio fare i punti esperienza Quindi, per me possiamo combattere Senza problemi Possiamo veramente combattere Senza problemi, qui, dai, su Così mi diverto un po', ragazzi Mi diverto un po', eh Ottimo, ottimo Battaglia andata a buon fine Andata veramente a buon fine Allora, allora, allora Eh, mi sono perso un po' di strada Ecco qua Il forziere è qui, ragazzi Vediamo un po' se c'è qualcosa di utile Insomma Vabbè, diciamo che va ben uguale Diciamo che va ben uguale Ciao, allora 137 anime, diciamo Quindi posso aprire qualche forziere Se li trovo E facciamo anche questo scontro Così sono altri punti Altri punti esperienza che arrivano Tanto non vedo Non vedo il problema, ecco Non vedo veramente il problema, ragazzi Problemi che insomma Non ci sono Ok, su Lo distruggiamo Credo proprio di sì Credo proprio di sì Ok, vai Ora ci divertiamo qui, ragazzi Ci divertiamo Sono scontri facili per il momento Quindi Va bene così Ok, si sale di livello Si sale di livello, ragazzi Ora possiamo Possiamo andare Avanti con la nostra storia Qui Ullala E qui ora Cosa facciamo? Sì Ok ok possiamo proseguire Ecco la qui cosa succede ragazzi Vediamo un po' Ecco questi qui mi preoccupano un po' Sembrerebbero abbastanza Resistenti no? Però staremo a vedere ora se Se sarà così oppure no insomma Ecco vediamo un po' se sarà in questo modo Vediamo se sarà in questo modo ragazzi Devono stare abbastanza buoni Devono stare abbastanza buoni Devono stare abbastanza buoni Uh la la salgono di livello Ottimo così ragazzi Così che deve andare Bisogna salire di livello ragazzi E' certo E' certo è così che funziona E' così Ecco il pipistrello qui ragazzi Facciamo Facciamo un po' di tutto Vai Facciamo un po' di tutto Perfetto Perfetto Dai che ci divertiamo Dai che ci divertiamo Su Sono abbastanza resistenti Ma si possono abbattere tranquillamente Si possono abbattere tranquillamente Certo Se salirei un po' più di livello Magari Qualche arma un po' più Aggressiva possiamo dire Tutto sarebbe meglio Però per il momento ragazzi Va bene in questo modo Per il momento Va bene in questo modo Ecco Allora no In questo modo Non va affatto bene Non va affatto bene Allora dobbiamo mettere un po' in chiaro le cose Qui perché Vediamo un po' di far tutto Di far tutto qui Ok Recuperiamo un po' Di energia Che non guasta Allora qui Non c'è nulla da prendere Va bene Allora Perfetto Possiamo andare Possiamo proseguire Ecco qui Io quello che posso ragazzi Raccolgo tutto Quello che posso Raccogliamo tutto In modo che Poi comunque Può esserci utile Ecco Ecco Vedete qui Qui è stato facile Però Ok Qui la strada è molto lineare Possiamo dire Veramente molto lineare Però Il gioco è veramente Ben caratterizzato Mi sta piacendo Ad un certo livello Ecco Quindi Mi piace Mi piace Mi piace Ragazzi Ecco Allora Ho fatto una piccola Deviazione Perché Magari qui c'era Un forsiere Qualcosa Vediamo qui Che bella nave Ragazzi Che bella nave Ok A questo punto Possiamo salire Vediamo un po' Cosa ci aspetterà Qui Che bella Sì 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 E anche molto Ok ottimo Così vabbè ragazzi Stiamo iniziando a A spazzolarli per bene Ecco Ula la Vediamo un po' qui Vediamo come si evolvono questi qui Visto che non li ho mai affrontati Vediamo un po' se sono fattibili Oppure Oppure no Ecco Vediamo un po' se sono fattibili Ok 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 va benissimo così 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 affrontiamo anche questo scontro come si deve ragazzi Come si deve Beh il gioco non è che è bello ragazzi di più di più di più Perfetto 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 allora torniamo dietro Andiamo che quindi interessa insomma ok quindi ora possiamo andare da questa parte guardate qui ragazzi che bordello guardate qui ah vabbè vogliono combattere vogliono combattere beh ma giustamente ragazzi ma giustamente voglio combattere anch'io quindi ok va benissimo così ok su che ci siamo ci siamo questo scontro veramente ben ben fatto perché ho vinto ragazzi e ben fatto perché sono riuscito a vincere senza troppi intoppi ecco il problema è dove andiamo ragazzi voi questo ve lo chiedete ma certo ma me lo chiedo anch'io posso passare di qua e beh ok è qui bisogna far tutto il giro ragazzi e bisogna far tutto il giro ma non non vedo di questi problemi lo facciamo senza troppi intoppi ecco una la 169 ragazzi ma ci vogliamo credere ecco adesso qui la strada si inizia un pochettino a ad evolvere diciamo ecco si evolve non so e si trova la chiave questo l'ho ben capito il problema non so se sto facendo la strada giusta ecco questo è il mio dilemma ecco ragazzi il mio dilemma è questo sto facendo la strada giusta non lo so non lo so non posso saperlo non posso saperlo ragazzi vediamo un po qui dai ok attacco più 5 perfetto perfetto va benissimo così va benissimo così allora con lo scontro adesso gli scontri che si possono saltare ecco li saltiamo questo purtroppo è stata un'improvvisata un una trappola è stata qui no non sono riuscito a saltare questo scontro ma va bene va bene dai va bene uguale va bene uguale su va bene uguale ragazzi non mi pongo il problema ecco quindi vediamo un po ottimo così nessuno che sale di livello per il momento io ragazzi ora non so se qui la strada è quella corretta va bene ecco qui si continua si continua io oramai sono quasi perso mi sono quasi perso qui sì perché la verità è questa ragazzi quindi ecco però vedete bisognava andar qui perché certo è certo vediamo un po magari ecco controlliamo allora ragazzi forse ho ben capito qui è sicuramente bisognerà bisognerà andar qui e poi ci ritroveremo lì dentro in qualche modo ecco voglio ben sperare voglio ben sperare poi posso anche sbagliare perché giustamente non è che sono ah ok qui posso entrare però qui c'è un forziere anello della terra che poi andremo a vedere ora noi entriamo visto che la strada sembrerebbe questa ora noi entriamo Grazie. C'è un'altra cosa che ha piaciuto, ragazza, 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 ragazza. Sì, ma come ha l'aria di fare l'aria di portare l'aria di portare l'aria di portare l'aria di portare. Questa è la mia opinione, quindi non c'è la chiamata, ok? Ok, ho capito C'è la chiamata? Quindi si puoi cercare la chiamata? C'è la chiamata, ho trovato molto bene Ok Ok ragazzi da che parte andiamo Vediamo un po' da che parte bisogna andare qui A questo punto Io sono entrato lì dalla finestra quindi La porta è aperta Quindi credo Credo Ok quindi Vabbè prendiamo questo ragazzi Non so se a questo punto tornare dietro Ma Credo proprio che dovrà Andare in questo modo Ecco volevo saltare qualche scontro Ma purtroppo non posso saltarlo Sono stato beccato E si Sono stato beccato purtroppo Sono cose che succedono ragazzi Sono cose che possono succedere ma Che noi andremo a risolvere ora subito In maniera molto veloce come ho ben detto no Va bene così No 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 Ora evitiamo Evitiamo In modo che voi magari non vi annoiate Ecco Allora sì vabbè Qui l'ho preso già il forsiere Andiamo di qua Andiamo di qua Sì Ok bisogna rifare tutta la strada ragazzi Ma si era capito già Poi non è molto distante Quindi insomma ci va molto bene Ci va molto bene Diciamo che ci va abbastanza di lusso Ecco Ci va abbastanza di lusso Sì ma ora il problema è che Da che parte vado Vado qui Eh eh ragazzi No io sono arrivato da Però qui giustamente ora Ecco forse dobbiamo andare qui sopra Sì Mi stavo un attimo perdendo Mi ero perso ragazzi ecco Credo che sia qui la strada Visto che non ci sono andato Per nulla diciamo no Credo proprio che sia qui Oppure Voglio ben Ben sperare Ecco Ora non so se di qua Oppure di là Eh eh Vabbè qui la strada è chiusa Quindi Prendiamo questo forsiere Voi sapete che io sono esperto di forsieri no? Ok Va benissimo così Direi che va benissimo così Evitiamo lo scontro Ecco non è stato possibile evitarlo Quindi Va bene in questo modo Va bene in questo modo ragazzi Ok Cosa facciamo? No Devi star buono Devi star buono Ok Va bene Eccoci qui Eccoci qui Allora ragazzi Io direi che Adesso chiuderò quasi il gameplay Però non so se magari Chiuderlo adesso Oppure Vediamo vediamo Intanto raccogliamo qui queste cose che ci interessano No Non ci pensare che combatto Ma non ci pensare minimamente Lo evito ragazzi Non per qualcosa Non per qualcosa però Allora Ora si può andare qui La strada Credo proprio Che sia questa Vediamo se c'è qualcosa da prendere qui 191 anime ragazzi Ora dite che sono poche Non credo proprio Non credo proprio Ok Allora Un macigno È troppo grande Per essere Eh sì Ok Cosa facciamo? Ecco Ora qui si pone Il Il problema Il dilemma Vabbè Non so magari Se andare da questa parte Sì No Bucchi Lo sa Eh eh ragazzi Ora qui c'è un piccolo Problemino Non c'è un po' di più Non c'è un po' di più Non c'è un po' di più Faccio il genere... Un amore... Un amore di spettare i gioia... Molto il genere... Questa è la verga? Scusate, per quanto riguarda quel tipo? Allora, allora sono inizia la tua bagnore. No, io sono inizia il cui spero... No, non è così... Non stai scegliere, sono attrezzate. Tutto i voli sui e' la Moon. Quindi sono inizia l'esperienza inizia. O è stato un po' di rinforamento. Ok ragazzi Il problema ora è che Come la sposto io con la roccia Questo ragazzi E' un bel problema Ora E non è un problema da poco Vabbè Non è veramente Un problema da poco Torniamo un po' a vedere qui Ma Forse mi conviene Forse Ma dico forse Stoppare questo gameplay Perché comunque siamo Vediamo un po' eh Scusate la botta che ho dato al microfono ragazzi Però ogni tanto succede Allora Il problema ora è come spostare la roccia Qui Il problema ora ragazzi E' come spostare Questa roccia Ed è un problema ora questo Si ho capito Che è abbastanza Grande Bisogna andar lì E questo l'ho ben capito Però ragazzi A questo punto Io salverei la partita E nel prossimo gameplay Cercherò Di riflettere Sul da farsi Cercherò di riflettere Poi Devo riflettere Per forza Perché non ci sono altre Devo riflettere Basta ragazzi Quindi io Il gameplay Lo chiudo qui Devo riflettere Un pochettino E poi vediamo un po' Il da farsi Per quanto riguarda Il Questa missione Quindi Io vi ringrazio Ci sentiremo con i prossimi video Un saluto a tutti Al vostro Diabrotex Lasciate un like Iscrivetevi sul canale Appuntamento con i prossimi video Ciao a tutti E alla prossima ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti